perché nell'antica grecia io affondavo nel passato vivevo nel passato il passato lacerava la mia mente che voleva capire ad ogni costo non solo il mio passato ma anche quello dell'umanità che mi contiene onnipotente la mia mente passava gli anni a scrivere e spiegare perché nell'antica grecia quel personaggio è stato ucciso perché è scoppiata la guerra dei cent'anni perché è scoppiata quella pace voleva spiegare il rombo della storia che mi era giunto ma da quando sono vecchio mi stupisco davanti alla perfezione della legge che rende tutti giusti i mistici e le guerre la famiglia buona parte il terrorismo gli eroi e i traditori della patria gli statisti i capitani di ventura insomma tutti 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 perché ognuno è divinamente nel suo giusto dopo ho capito che il passato non potrà mai essermi maestro perché è servito solo a chi ha avuto il bisogno di viverlo e per questo l'ha creato Grazie a tutti Grazie a tutti.